Benvenuti! Oggi vi presentiamo la scopa elettrica Dyson V7 Fluffy. All'interno della scatola troveremo la Dyson V7, una spazzola delicata, una spazzola morbida a rullo, una mini turbospazzola, un accessorio multifunzione, una bocchetta a lancia e la stazione di ricarica. Il motore Dyson V7 garantirà una buona potenza e un'elevata forza di ispirazione con soli 85 dB di rumorosità. La durata della batteria sarà di ben 30 minuti impostando la modalità standard, 20 minuti utilizzando le spazzole motorizzate e 6 minuti in modalità max da utilizzare solo su divani, materassi o sullo sporco stinato. La spazzola morbida a rullo è progettata per rimuovere dei pavimenti polvere e corpuscoli più grandi contemporaneamente. Sarà possibile trasformarla facilmente in aspirapolvere portatile per pulire anche spazi più difficili da raggiungere. La mini turbospazzola è indicata per la pulizia di divani e tappeti. Cattura i peli di animali e lo sporco nascosto. La comodissima stazione di ricarica caricherà completamente la batteria a litio in tre ore e mezza e consentirà inoltre di riporre l'aspirapolvere con tutti gli accessori e averlo sempre pronto all'uso. Per la recensione completa sul prodotto seguite il link nella descrizione e ricordatevi di visitare il nostro sito www.migliorprezzo.it questo video è così.